Salve ragazzi e bentornati su Valinor, io sono Frank e con questo terzo e ultimo capitolo concludiamo la serie dedicata alla storia del re stregone di Angmar. Ma prima di iniziare voglio innanzitutto consigliarvi di recuperare i primi due episodi, se ancora non li avete visti, li trovate sul canale, ma soprattutto voglio ringraziare la bravissima attrice e doppietrice Francesca Lamalfa che ha collaborato con me per questo video e ovviamente vi consiglio di dare uno sguardo alla sua pagina Instagram, vi lascio il link nei commenti. E ora direi di iniziare. In seguito agli eventi del Guado del Bruinen non si hanno notizie precise dei Nazgul e del re stregone, Presumibilmente una volta scampati alla furia delle acque, ritornarono a Barad-dûr per riferire all'oscuro signore il fallimento della loro impresa e qui Sauron li dotò di nuove cavalcature, inviandoli a continuare la caccia al portatore dell'anello, ma non è chiaro se anche lo stesso re stregone abbia preso parte alla nuova caccia. Mentre a Rohan le forze dei Roirrim e degli Ent si opponevano agli eserciti di Isengard, l'oscuro signore decise che era il momento di attaccare gli uomini e non immaginando neppure lontanamente che i popoli liberi volessero distruggere il suo anello, concentrò le proprie forze contro il regno di Gondor, che per secoli gli si era opposto e avrebbe rappresentato un pericolo ancora più grande qualora il sovrintendente Denethor fosse venuto in possesso dell'unico anello. Il re stregone tornò dunque a Minas Morgul, dove si apprestò a preparare le proprie truppe e i piani di invasione del regno dei Dúnedain. Inoltre, al momento della partenza delle truppe verso Gondor, rischiò di incontrarsi con Frodo. L'Hobbit, infatti, accompagnato da Sam e guidato da Gollum, visto che la via del Nero Cancello era sbarrata, tentava di raggiungere Mordor passando per il passo di Kiritungul, il che comportava dover per forza attraversare la valle di Morgul, regno del signore dei Nazgul. Sentendosi abbastanza potente, il re stregone decise quindi di lanciare l'attacco a Gondor con tutte le forze di cui disponeva Minas Morgul e fu tra il 10 e il 12 marzo 3018 della Terza Era che le sue truppe investirono la città di Osgiliath, conquistandola dopo una dura lotta nonostante l'accanita resistenza di Faramir, assicurandosi in questo modo il controllo dei guadi dell'Anduin. Conquistati i guadi, diede quindi il via all'assedio di Minas Tirith. Siccome le mura della città erano costruite in materiale numenoreano e quindi praticamente indistruttibile, il re stregone concentrò le sue forze contro i cancelli di Minas Tirith. Perciò egli si servì del possente ariete da guerra, Gond, così chiamato in onore dell'antica arma di Morgoth e che egli stesso aveva incantato con potenti magie di protezione affinché fosse immune alle armi degli assediati. E alla fine le porte della città cedettero ed egli, a cavallo di un destriero nero, fece il suo ingresso nella fortezza affrontando Gandalf con una spada fiammeggiante. Non puoi entrare qui, disse Gandalf e l'enorme ombra si fermò. Torna negli abissi preparati per te! Torna indietro! Affonda nel nulla che attende te e il tuo padrone! Via! Il cavalire nero fece scivolare il cappuccio e, meraviglia, portava una corona regale. Eppure sotto di essa vi era una testa invisibile poiché fra la corona e le grandi scure spalle ammantate brillavano rossi i fuochi. Da una bocca inesistente proruppe un riso micidiale. Vecchio pazzo! Vecchio pazzo! Questa è la mia ora! Non riconosci la morte quando la vedi! Muori adesso! E vane siano le tue maledizioni! E con ciò levò alta la spada e delle fiamme percorsero la lama. Tuttavia, tra Gandalf e il re stregone non vi fu alcuno scontro in quanto quest'ultimo, attirato dal suono dei corni che segnalavano l'arrivo dei rinforzi provenienti da Rohan voltò la sua cavalcatura e tornò verso le retrovie per riorganizzare le sue forze. E ritiratosi precipitosamente da Minas Tirith il re stregone cambiò quindi la propria cavalcatura salendo in groppa alla sua bestialata e si gettò contro i Roirim assieme agli altri Nazgul creando ulteriore scompiglio. E quando vide Theoden a terra si avventò su di lui assieme alla sua mostruosa cavalcatura intenzionato ad ucciderlo dando così il colpo di grazia al morale dei cavalieri di Rohan. Tuttavia, prima che potesse vibrare il colpo tra lui e il re si frappose Eowyn la quale, sebbene terrorizzata si preparò a difendere l'amato zio con le unghie e con i denti diffidando il luogotenente di Sauron a sfiorare il corpo del re e sfidandolo a passare il suo corpo. Inizialmente il re stregone non dette molto peso alle minacce della principessa di Rohan ancora travisata in vesti maschili intimandole di levarsi di torno altrimenti l'avrebbe trascinata prigioniera Barad-dûr e fatta sottoporre a orribili torture da parte di Sauron in persona. Ma Eowyn non desistette e rinnovò la sua sfida suscitando in un primo momento l'ilarità dell'avversario che conscio della profezia di Glorfindel era sicuro di non poter essere in alcun modo danneggiato da uomini mortali e fu allora che la fanciulla gettò la sua maschera rivelando la sua natura di donna. Vattene maledetto Dwimerlake signore delle carogne lascia in pace i morti una voce glaciale le rispose non metterti tra il Nazgul e la sua preda oppure non ti ucciderà quando verrà il tuo momento ma ti porterà nelle case dei tormenti dove la tua carne sarà divorata e la tua mente raggrinzita sarà lasciata nuda davanti all'occhio senza palpebre. Una spada risuonò mentre veniva sguainata. Fai quello che vuoi io te lo impedirò se potrò. Impedirmelo? Sei pazzo! Nessun uomo vivente può impedirmi nulla! Ma io non sono un uomo vivente stai guardando una donna. Io sono Eowyn figlia di Eomund tu ti ergi fra me e il mio signore dello stesso mio sangue vattene se non sei immortale viva o morente ti trafiggerò se lo tocchi. Inizialmente colto alla sprovvista dalla rivelazione il re stregone lanciò la sua orrida cavalcatura contro la fanciulla ma Eowyn fece in tempo ad evitare l'attacco e a decapitare la bestia disarcionando l'avversario e infuriato il re stregone si rialzò e dopo aver lanciato un urlo lacerante attaccò con furia la giovane spezzandole lo scudo e il braccio sinistro con la sua enorme mazza da guerra. E probabilmente il servo dell'anello sarebbe stato sul punto di ucciderla se Merry non fosse intervenuto colpendo il re stregone dietro al ginocchio con una lama delle tumulilande l'unica in grado di ferirlo seriamente poiché create appositamente per ferire le creature del male. E la ferita provocò nel Nazgul un momento di cedimento permettendo ad Eowyn di infliggergli il colpo di grazia con la sua spada infilando la lama tra la corona e il manto la quale tuttavia si spezzò a causa dell'enorme potere sprigionato. E fu così che il re stregone morì secondo quanto detto dalla profezia di Glorfindel il quale aveva predetto che nessun uomo l'avrebbe ucciso. E allora ragazzi finisce qui la lunga storia del re stregone di Angmar una storia che ho raccontato in questa miniserie di tre episodi che ora trovate disponibili sul canale e che ci servirà come punto di partenza per approfondire altri aspetti non solo di questo personaggio ma anche delle storie che lo hanno visto tra i protagonisti. E prima di salutarvi voglio ancora ringraziare Francesca per la sua collaborazione per questo video e ringrazio ovviamente tutti gli abbonati a questo canale che con un piccolo ma fondamentale contributo supportano ulteriormente questi contenuti. E mi raccomando lasciate un bel pollice in alto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video e da Frank è tutto ciao ragazzi grazie a tutti